Non mi lasciare le anticipazioni della terza puntata. La terza puntata della Fiction Rai con Vittoria Puccini va in onda lunedì 24 gennaio. Nel corso della terza puntata Elena cercherà di capire dove è stato nascosto Angelo, ovvero il luogo del sequestro. Perciò si recherà la casa famiglia dove, fino a poco tempo prima, viveva il bambino e parlerà con la psicologa. Il colloquio con la psicologa sarà molto utile ad Elena. La psicologa le dirà che Angelo è molto forte, molto più di quanto voglia far credere. Alla fine riesce a trovare il luogo dove era tenuto prigioniero, ma purtroppo Angelo lì non c'è più, i rapitori l'hanno portato via da un'altra parte. Giulia la invita alla festa di compleanno del suo primo genito. In fondo sono state amiche per molto tempo ed è normale che la inviti. Tuttavia Elena a un certo punto scomparirà senza salutare nessuno. Tornerà a Roma dove c'è il figlio Diego che è in crisi. È un adolescente innamorato alla prima delusione amorosa e così sua madre cercherà di stargli vicino.